Musica Prego! Eccoci Come stai? Bene Questa è la colonna sonora del ciclone che è una tua scoperta, lo possiamo dire? Beh, è un film che ho prodotto appunto con Leonardo che ha iniziato con me, vedi parlavate di Toscana Io non sono nata in Toscana, ma con la Toscana ho avuto tanto, no? Ho dato tanto, ho avuto tanto, però io adoro la Toscana Immagino perché è un luogo dell'anima davvero Non sei nata in Italia, sei nata a Parenzo Che era all'epoca Jugoslavia titina I tuoi genitori arrivano in Italia Poi chiedono il permesso di rifugiati politici E tu cominci la tua vita italiana in un campo profughi Che pensate era la riviera di San Sabba Cioè un lager nazista Era un campo di concentramento e di sterminio nazista Avevi cinque anni, cosa ricordi? Beh, tutti i materassi macchiati, tutto sporco, non c'erano le tende Ho detto, no, io non voglio stare qui Io non dormo, mia mamma aprì una valigetta Aveva portato delle lenzuola Ha detto, beh adesso copriamo tutto, non si vede niente C'erano dei letti a castello E quindi così, però io stavo in mezzo alla stanza a piangere Tua sorella? Mia sorella ancora peggio, era ancora più sofisticata lei Perché fu uno shock per te comunque Sì, fu uno shock grandissimo Però, dissi, però indietro non torniamo Anche tu a così piccola l'hai pensato? Sì, perché quando sono andata via dalla Croazia Da questo piccolo paese dove viviamo a Castellia Sono arrivata a Trieste e ho visto la città Poi certo, siamo andati immediatamente in questo campo orribile Però avevo visto la città e la città è stata per me una folgorazione Allora io ho detto, no, indietro non torniamo Volevo andare nella città E può essere forse una massima nella vita, indietro non si torna? Beh, indietro non si torna Si può tornare indietro Però è meglio andare avanti Tu quando sei tornata indietro nella vita? Intendo anche tornata sui tuoi passi? A volte il cuore ti fa tornare indietro Ed è un bene o un male? No, ma io vado dove mi porta il cuore Mi piace Poi, vabbè, forse è un male Però non fa niente Bisogna, la vita va vissuta, no? Ci si deve tuffare E anche con il mare mosso E poi, vabbè, si riesce Fai pure delle sciocchezze ma falle con entusiasmo Diceva qualcuno Sì, certo E dicevo appunto Da allora sono passati tanti anni Tu racconti, tu dici la tua età con grande tranquillità Che devo fare? Lo dice Google Basta andare lì, mettere il nome Anche perché nessuno ci crede quando ti vedono Io devo dire, ho visto Rita Rusic Quest'estate in un luogo sul litorale romano Un albergo Una bellezza, un fisico Una diciottenne Non lo dico per piageria, è vero Perché stavo lì, la guardate, quanto è bella Ti vediamo su Instagram Vediamo Are you ready for this? All the single ladies 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 Now put your hand up Up in a cup You just broke up I'm doing my other thing You decided to dip him And now you wanna trip him Cause another brother noticed me I'm up on him He up on me deep Don't pay him any attention Just to cry my tears here Take your three good kisses You can't think mad at me Tu giochi molto sempre con il tuo corpo, no? Lo fai per divertimento, perché per seduzione, per libertà? Si Avevo iniziato quando ero molto giovane perché faceva modella e lavoravo molto come consumi da bagno, facevo postal market, allora era una cosa. E quindi niente, è stato sempre così. Da modella giocavo col corpo e adesso così mi diverto. Sono pochi secondi, capito? È molto più facile, no? Sì, ma certo, figurati. Allora, torniamo a Trieste. C'è tua mamma Fiorella, una donna che peraltro ha avuto una vita davvero incredibile. Anche mio papà, solamente che appunto essendo una donna, adesso io sto lavorando diciamo su un libro, sto scrivendo un libro, sulla vita di mia madre e sulla mia. E quindi due donne, madre e figlia, un po' con due vite simili ma molto diverse. Ecco, mamma Fiorella peraltro ti raccontava, no? Quando gli italiani le sparavano. Beh, certo, sì, 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 sì. Che cosa ti ha raccontato delle sue sofferenze? Beh, durante la guerra, sai, lei era, cioè il papà l'hanno ammazzato durante la guerra e quindi quel giorno, lei se lo ricordo ancora perché chiaramente sono venute a chiamare la nonna, mia nonna aveva 29 anni, mia nonna aveva 31 anni quando gli hanno sparato davanti al cimitero, ma insieme ad altri, sai quando ti facevano scavare... Sì, 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 era presaglie così e allora mia nonna lasciò la bambina più grande con il maschietto piccolo e prese mia madre per mano e corse lì, quindi mia mamma vide il padre, l'avevano già sollevato, l'avevano messo su una panca di, come di pietra e lei vedeva appunto questo buco. E di questo cosa ti ha raccontato e che messaggio ti ha mandato? Ma sai, mia madre ha visto talmente tante di quelle cose che alla fine è come se, sai quando guardi qualcosa che non ti appartiene, come noi quando vediamo nel telegiornale qualcosa, ci sembra così distante mentre poi è la nostra vita, no? E un po' tutto questo, però ecco questa cosa del padre mi ha sempre detto che non riusciva mai ad entrare in una casa e vedere un uomo a capotavola senza piangere, scappava via. Quando la invitavano a rimanere, a mangiare con loro così, non ce la faceva, a vedere un padre, anche perché lei era la preferita del padre, il padre la chiamava bionda spettinata, perché era da piccola, biondissima, con questi occhi azzurri. Il dolore di tua madre è anche il tuo, lo vedo perché lo racconti con commozione. Sì. La mia mamma è una persona molto particolare, è una donna molto femminile, però molto pragmatica. Quindi ha questa dote maschile di essere, di vedere le cose come sono, però ha questo piccolo margine dove la vita ti può riservare delle cose meravigliose. Perché forse il dolore di tua madre, che lei ti ha, diciamo, trasmesso nel senso che te lo ha raccontato, no? È un modo molto semplice, no? Sì, molto crudo anche, che è un po' della nostra terra, no? Non ha usato infingimenti, non ha usato delicatezze, tra virgolette, però questa cosa ti ha portato ad un'altra grande frase che so che tua mamma ti diceva, non avere paura di aprire le porte, cioè io ho vissuto il dolore, voglio che mia figlia sia libera, è così? Sì, però lei dice che ad esempio per me lei mi ha sempre fatto sentire bene e poi mi ha sempre detto che dietro una porta ci sarà sempre qualcosa di meraviglioso per me, perché per lei è chiaro, sono meravigliosa, sono suo figlio. Ma tu hai vissuto una vita anche per tua madre? No, quello non ho mai pensato, di vivere una vita per loro. Metto anche mio padre, perché chiaramente mio padre, io avevo la passione della musica, mio padre era musicista, quindi quando si è giovani non si pensano a queste cose, no? Mentre poi alla fine ti penti. Io mi sono pentita di non avere voluto, mentre mio padre mi insegnava musica eccetera, non ho voluto poi suonare uno strumento ed è una cosa di cui mi pento. Ed è una mancanza, cioè non gli ho affattato questa soddisfazione. Lui cosa suonava, che strumento suonava? Saxofono e clarinetto. Due strumenti molto sexy peraltro, immagino che papà adesso la foto, eccolo qui, sì. Sì, era un bellissimo uomo, io assomiglio al mio papà con qualcosa della mia mamma, poco. Avrei voluto gli occhi azzurri di mamma però. Non ti puoi lamentare, dai. Peraltro, appunto, tornando a questa bambina a cui la mamma però insegnava a non avere paura, quindi diciamo un monito molto bello, loro due si amavano, i tuoi genitori, famiglia felice. Da impazzire, sì. Litigavano sempre anche. Ah sì, eh? Quindi che modello familiare avevi? Dove l'unione è passione, giocare, gioco, perché scherzavano sempre così. E poi, certo, anche litigi, perché comunque mio padre era un uomo esuberante. E la mia mamma era più severa, soprattutto quando noi eravamo più piccole. Allora lui ci portava al cinema, di qua, di là. Quindi lui era la parte più gioiosa della tua famiglia. Era la parte più gioiosa quando eravamo piccoli, sì. E cosa succede poi dopo nella vita di questa bimba arrivata dall'Istria che viene mandata a studiare in collegio? Sì. Collegio del Sacro Cuore di Gesù. Sì, sì, cioè non è suore. La quale esci in realtà con l'educazione di una principessina. Tu sei una rifugiata politica. Facciamo il camo, ci insegnavano la postura, mangiavamo con le posate sotto le ascelle per non allargare i gomiti. Quindi poi, non so, facevamo molto sport. C'era l'allenatrice della Nazionale di allora, la signora Trombetta, che ci faceva appunto... Quindi ne hai un bel ricordo? Sì, sì, sì. Sono stata appartata sempre bene e quello che mi meraviglia oggi, perché in un mondo dove c'è molta violenza, molto abuso sui minori, sulle donne, eccetera, eccetera, io non ho mai vissuto nessun episodio di questo genere in otto anni di collegio, che non è poco. Peraltro un collegio, diciamo, che ti dava lo Stato, no? In quanto profugo, per cui, diciamo, ha cresciuto una ragazza, dandole anche la possibilità di poter poi appunto stare al mondo nel migliore dei modi possibili. Sì, e soprattutto di imparare, perché dopo un anno e mezzo di campo profugo, ad esempio, parlavo, non parlavo l'italiano. Certo. E quindi... E quindi così, non ha tostito, ti dispiaceva stare lontano da mamma e papà? Sì, io sono andata in collegio perché pensavo era andare via per tutti. Tutti andavamo in collegio. Quando ho visto poi che mamma e papà avevo io, uh, 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 i pianti che ho fatto, mi ricordo ancora, mi hanno portato in cortile a vedere le altre bambine, quindi stavo nel mezzo di loro, loro mi guardavano perché avevo questi capelli lunghi, mi toccavano i capelli, eccetera, io piangevo, disperata. Ma hai mai pensato che ti avessero abbandonato? Mai. Quindi sapevi che era per il tuo bene? Certo. Era duro, ma lo dovevi fare? Sì. Dopodiché esci, torni a bussarci. Poi c'è la mia sorella. Ah, certo. Per me mia sorella era proprio la mia passione, era la mia sorella più grande e io quando ero piccolo volevo più bene a mia sorella che ai miei genitori, cioè volevo bene a tutti, ma a lei un po' di più. Quanto più grande? Tre anni. Poi insomma uscite dal collegio, le due principessine e arrivate a Bustarzizio, dove la tua famiglia si era trasferita, lavoravano, le facevano l'operaia, mi sembra. Sempre in un villaggio di profughi. Come li trovavi? Bene, bene, bene. Fino a quando decidi di andare a Milano? No, perché io ho capito subito, quando sono arrivata lì ho detto ok, però questo non è Roma, cioè Roma. It's not my cup of tea. Ah, certo, perché tu arrivavi da Roma, certo. Io arrivavo da Roma, quindi ho detto no, qui non posso stare. Quindi ho riscritto al liceo linguistico, però ho detto no, devo trovare una scuola che non c'è a Busto, dato che c'era quasi tutto. E allora ho detto vabbè, ho trovato questa scuola odontotecnica. E quindi mi sono iscritta, mia mamma pianti, eccetera, eccetera, e sono andata a Milano. E quindi ero contenta, perché Milano ti dà un'apertura, ti dà una possibilità. Volevi stare in città, tu già dritta per la tua strada, sapevi già più o meno. No, per il futuro, ho capito. Cioè sapevi che la città ti avrebbe potuto offrire delle cose che la provincia non riusciva ad offrirti, ovviamente. Infatti ho iniziato a 16 anni a fare la modella. Ecco, come ti sei trovata? Milano? Bene, poi è una città molto difficile, molto dura. È una realtà dopo il collegio. Chiaramente sono andata a finire in una scuola dove c'erano 2000 ragazzi e 5 femmine. Quindi il primo giorno di scuola, cioè la femmina non ho vista neanche una. No, ma poi nella scuola arrivare i da Rusic, immagino questi studentini. No, è stata una scuola per me. Dopo 15 giorni ero lì e dico, addio, forse voglio ritornare a busso. Poi però vabbè, sono diventata più forte, capito? Era tutto un training per diventare una specie di terminatoria. E la tua debolezza dov'è? Nel cuore, nei sentimenti. Sì? Sì, certo. Ancora oggi? Sì, certo. Sei innamorata? Che brutta domanda! Perché se qualcuno sente... Sai che le persone non devono sapere se li vuoi troppo bene? Davvero? Certo, perché poi si approfittano, no? Ecco, quindi tu non... Quindi voglio bene con riserva. Però la riserva qui, qui no. E cosa vince? Qui o qui? Vince qui fino a che vale la pena. E poi quando invece vedo il pericolo, vince sempre la testa. Ti è capitato di vedere il pericolo? Sì. Che in cosa consisteva il pericolo? Eh, il pericolo è la paura di soffrire, proteggerti. Pericolo vuol dire, non lo so, vuol dire tante cose. Perché pensavi che l'uomo non ti amasse più, che il tuo partner non ti amasse più? Beh, sì, quello è il perdere tempo, no? Quello non mi piace. Non mi piace perdere tempo. Neanche in amore? Neanche in amore. Però l'ho perso, eh. E come? Sbaglio. Sarei una perfetta teorica, però nella pratica, perché sono un disastro. Ma sei contenta di essere un disastro nella pratica, alla fine? Ma sì, sono contenta di essere, capito, di avere queste passioni, di sentire queste emozioni, di vivere come se fosse una quindicenne, mi piace. Poi, certo, non mi devo comportare come una quindicenne, però mi piace sentire ancora tutto questo. Comunque, alla domanda, sei innamorata? Io deduco, lo dico io, non lo dice lei, eh, chiunque sta ascoltando che Rita Rusic è innamorata, ma non lo vuole dire. E soprattutto deduco, per chi ascolta, così sta bene dove deve andare, che deve fare il bravo, perché se no, Rita Rusic, tempo, due minuti, ciao, ciao. Ok? Non confermo, ma non nego. Perfetto. Ci siamo intese. Mi sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare. Grazie Memo, contrapunto perfetto. Senti, ti vediamo cantare, perché c'è una storia legata alla musica, ti vediamo e poi dopo la raccontiamo. Non so con chi adesso sei, non so di cosa fai, ma so di certe cose, ma stai incontando. È troppo grande la città, perché come noi, non sperano però, si stanno cercando. Perfetto. Perfetto. Quando, quando, quando We can share our love to find Please don't make me glad again Innamorato, sempre di più Ricordo all'anima Sempre di più Perché non è una potenza Ma poi che sarà Domani sempre Sempre di più Sempre di più Sempre di più Sempre di più Non farà Era il 2006 Perché? Adesso ci arriviamo all'ecanza Al mondo della musica Perché, vabbè, insomma Ti abbiamo lasciato a Milano Modella Conosci Vittorio 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 Scusami Va bene Nella famiglia abbiamo tanti Mario Il mio figlio Peraltro tu hai un figlio Mario E una figlia Vittoria Non c'è grande fantasia No, no, non c'è stata Proprio fantasia Ma il nome L'ha deciso lui? L'ha deciso tuo marito? O l'ha deciso? Ma guarda, dopo dieci giorni La bambina, quando era nata Vittoria Non aveva ancora un nome Allora mi hanno detto Senta signora Qua Conosci Vittorio E lui si innamora follemente di te Sembra, sì Come sembra? No, che ne so Ti corteggia? Sì, chiaro Corteggia Era fidanzato E quindi tu lo guardavi un po' così Cosa pensi? No, non lo sapevo Chiaramente Mi ha detto Guarda, sono fidanzato Ma ti corteggio Non ci sarei mai cascata E cos'è questa storia del caffè? Cos'è? Ah no Perché lo sai che Io sono allergica al caffè Non bevo caffè Però allora non lo sapevo tanto Però non lo bevevo spesso Mi avevano offerto un caffè sul set E quindi io l'ho bevuto Poi siamo andati a tavola E c'era appunto Vittorio Celentano La Feneca Stavano le Pipolo Stavano girando il Fimasso E io quando prendo il caffè Manca il respiro, no? Allora respiravo così Vedevo Vittorio che mi guardava Così Vedevo Vittorio che mi guardava Si avvicinava Come dire Ma che effetto faccio? Cioè proprio Tutto eccitato Ha capito? Invece era solo il problema Che sono allergico Intollerante Diciamo Intollerante al caffè E come ti ha conquistato alla fine? Quando è che hai detto Si va bene? Allora guarda Mi ha conquistato con la simpatia Ecco Adesso è Parlare al presente E' un uomo molto spiritoso Molto intelligente Era No molto intelligente E' stato molto molto più spiritoso prima Ma vi sentite? Era simpatico Adesso in questo momento Siamo di nuovo Che non ci sentiamo Perché facciamo così a onde Perché quando ci vediamo per un po' Poi ritornano un po' Sai questi Questi dolori del passato Se sento che alza la voce Così Mi fa subito effetto Mi ricordo tutto quello che non Che non mi piaceva Tutto quello che mi ha fatto scappare Che cosa di più ti ha fatto scappare? Questo Questa sua Questa sua Distanza Questa sua Questo vedere negli occhi Come se non avessimo fatto niente insieme Come se non avessimo Un passato insieme Come non avessimo dei figli Come non ci fosse stato l'amore Non ci fosse stato niente Questa freddezza Non sopporto Perché secondo te? Forse anche lui lo faceva perché Perché Per darsi un tono Perché Abbiamo vissuto momenti molto difficili Chiaramente Era un po' Si era un po' perso Nel senso che Il grande successo Avevamo avuto un successo Esagerato E quindi questo grande successo L'aveva Poi le televisioni Sai Tutto Si era un po' Lasciato andare Lasciato trasportare Non so Non è che Io Invece col mio successo Ero Una donna poco tollerante Anche molto dura Perché La sicurezza Il successo Ti rendono Ti rendono Ti rendono Come un po' Ti danno un po' quella distanza Quindi diciamo così Tu ti sei rafforzata E lui si è infragilito C'era un tema di competizione Fra voi due Beh si C'era una grande competizione Di vittorie Nei miei confronti Io no Certo Perché Tu eri solo grata Cioè io ho conosciuto Che ero già un produttore Esatto Quindi non è che volevo competere Diventare meglio di lui Non era quello il mio goal Il mio goal Il mio goal era Dare il meglio Di quello che potevo dare io Ma io non sono mai in competizione con gli altri Io sono in competizione con me stessa Cioè il mio reinventarmi Il mio Le mie curiosità Il mio Volere anche cambiare Esplorare cose nuove È proprio un bisogno che ho io E tu non riuscivi a rassicurarlo? È difficile rassicurare un uomo Quando ti guarda come se Non 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 ti avesse mai visto Cioè dopo che hai vissuto tutto quello che hai vissuto insieme È impossibile Non accettavo questo Avevo anche Diciamo quasi vent'anni di meno Quindi non accettavo Il fatto di essere adorata Da tutti E non da lui Che cose strane che sono le relazioni Sì certo E la musica Te l'abbiamo citata Perché tu a un certo punto della tua vita Fai un provino Per questa etichetta famosissima Si chiama Motown Che poi è l'etichetta del blues Quella di Stevie Wonder Sì certo E ti prendono Quindi tu potresti cantare Tuo marito ti dice No Sì un contratto di tre anni A Los Angeles Avevo la bambina La bambina aveva un anno E quindi Vittorio mi ha detto Cioè dove vai? Cioè vai tre anni a Los Angeles Arrivederci Non ci vediamo più È finita Questo è il primo anniversario di matrimonio Questa volta E quindi niente Poi a malincuore Ho rinunciato a questa carriera Diciamo così Così di provarci Poi negli Stati Uniti Che allora voglio dire Era una cosa molto forte Molto importante Ti sei pentita? Moltissimo No, non mi sono pentita Perché però ho sofferto moltissimo Ho sofferto moltissimo Poi ho avuto un'altra chance Perché me l'hanno data Questa gente americana Dopo tre anni di farlo a Londra Ma non ho Era stato talmente tanto il dolore Era talmente della rinuncia Era stato talmente tanto Ho fatto tanta fatica A metabolizzare A cambiare E tu gliel'hai mai rifacciato Tu gliel'hai mai rifacciato a Vittoria No Perché è stata una decisione anche tua Quindi È stata una decisione mia E certo No, ho scoperto Quando mi sono separata Quando sono ritornata a Los Angeles Che gli appuntamenti di lavoro Che mi aveva fatto fare Cioè che avevo fatto io E erano tutti appuntamenti finti Che lui mi aveva Aveva organizzato con questo produttore E io praticamente pensavo di incontrare Fai finta Il capo dell'ICM Il capo della CEE E invece vedevo Altre persone Che facevano finta Di avere quel ruolo E poi Non mi rispondevano mai Il fatto che io avessi avuto un contratto Con la Motown È una cosa che gli è sfuggita di mano Perché un agente Che era l'agente di Whitney Houston U2 George Michael Per caso Chiedeva sempre Che voleva sentire Queste mie registrazioni E quindi dopo mesi Io dall'Italia Gli mandai queste cose Per sfinimento Perché non ne potevo più E da lì è nata questa cosa Quindi è nata al di fuori di lui Lui non lo sapeva Però quando si è trattato Quando lui sapeva Quello che stavo facendo E praticamente ho organizzato tutto questo Quindi per me è una cosa orribile Frustrante Cioè tu fai degli appuntamenti Non ti prende nessuno Prima cosa Scusami Rita Allora innanzitutto Le energie perse per una cosa del genere Pensa al grado anche di Agitazione No, terribile 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 A lui Ma certo Quello non ci ho pensato Mi è venuta solo rabbia Quando l'ho pensato Perché era talmente ridicolo Cioè non mi far fare niente E tu gliel'hai detto Quando gliel'hai detto Lui cosa ti ha risposto? No, non gliel'hai mai detto E che gliel'hai mai detto? Ormai eravamo separata Ormai era andata Ciao Cioè Fin dei conti Mi ha fatto anche tenerezza Cioè Mi ha fatto rabbia E mi ha fatto pure tenerezza E per questo dico Penso al grado anche di insicurezza Perché No, però insicurezza Secondo me è come dire Vabbè Pieraccioni Albanese Panariello Salemme Pieraccioni Sì L'abbiamo detto all'inizio Esatto Hai sempre avuto gratitudine? Sai La gratitudine Cioè Per carità Sono amica con tutti Ci salutiamo tutti Nessuno ti dice grazie Nel senso che È un mondo così Lo conosci tu il mondo dello spettacolo Non è un mondo di tanti grazie Di tante persone che ti riconoscono quello che hai fatto È un mondo dove ognuno si prende le sue soddisfazioni E va avanti con quello Anche tu hai fatto così? No No Io perché Chiaramente essendo un produttore Non è che sono un'attrice Quindi ho preso Ho fatto meno un'attrice Perché tu il film è stato Attila Flaggello di Dio Lì in cui c'hai tutto il tuo splendore La mia carriera di attrice con Vittoria Chiaramente come quella di cantante Sono finite tutte le carriere Meno male che almeno quella di produttrice è andata avanti Perché lì non comparivi Quindi forse Lui non poteva essere un po' geloso Comparivo però avevo rinunciato a fare interviste Non ho fatto interviste per 16 anni Mai Non parlavo mai con la stampa Andavo alle conferenze stampa Era una tua scelta o una scelta di tuo marito ancora una volta? Era di mio marito Cioè non mi piaceva che ci mettessero in competizione Che ci fossero dei problemi Cioè litigare per questo Io volevo fare la mia strada Non volevo fare la mia strada contro Vittorio Io facevo la mia strada per il gruppo Cioè c'era un gruppo da difendere Tra i successi del gruppo cecchigori ci sono anche Non ci resta che piangere E anche il postino Lo rivediamo Troisi Perché è nel cuore di tutti noi Immenso Non sono mai avuto d'accordo Perché? Mai Ma guarda è una cosa Perché io tenivo a mio padre E ora il pensionato E non ho lavorato in dei ferrovii del Stato Ah ferroviieri dello Stato? Eh Era il capo treni del ferrovii E allora io avevo la Befana di ferrovia Ti puoi immaginare che Befana aveva? Ogni anno ho una trenina elettrica Era questa fantasia che tenevano Tenevano questa fantasia proprio Io non tenevo qui Ogni anno io avevo la trenina elettrica Arrapevo l'anno dopo la trenina elettrica Io non sapevo che ci fosse un pazzo Allora ho scritto una lettera Per non far breve però hai capito Che avevo la figlia che è buona A me i trenini elettrici mi piacciono Non è che gli dici Ma allora tu ora mi scrivi perché non ti piace Però per favore Se puoi e cose A me mi piacciono i trenini elettrici Per carità Però potrei avere volendo una cosa Una pistola Che ricordo hai di Massimo? C'è un episodio che ti ricordi particolarmente? E lui è veramente una persona incredibile Perché Perché era molto taciturno Molto silenzioso E poi tutto ad un tratto diceva una cosa Che era Ti faceva troppo ridere Troppo intelligente Siamo stati molto amici Abbiamo fatto tanti film insieme E abbiamo vissuto anche l'America insieme Perché lui ad un certo punto Voleva fare l'attore in America E quando finalmente ci sarebbe riuscito Perché con il postino Insomma è andato agli Oscar E avrebbe avuto quella carriera che voleva Che ha cercato E invece è successo quello che è successo Non mi dimenticherò mai Non mi dimenticherò mai quel giorno di giugno Chi te l'ha detto? Mai Ero a Firenze E mi ricordo ancora tutto esattamente quelle tende dell'albergo Quel caldo E è arrivata questa chiamata Orribile Cioè Pensa che lui Aveva finito come attore Di girare il postino E Quel giorno il pomeriggio ha voluto doppiarsi Tutte le voci eccetera eccetera E hanno detto Ma perché? Ma che fretta c'è? No lui ha fatto tutto E poi il sabato è morto Venerdì aveva finito tutto E Mentre il film non era finito naturalmente Lui era anche regista Certo E' anche autore Quindi comunque Non è che aveva finito di lavorare su quello Però non lo so Forse aveva sentito qualcosa Si è parato Si è protetto E E ha fatto tutto quello che doveva fare Affinché non ci Sarebbero stati problemi Se avesse avuto appunto Un problema Come un presagio Sì un presagio Una cosa Ma lui è pazzesco Lui era veramente Non lo so Una persona incredibile Veramente una persona incredibile Nella vita quali Quali sono le caratteristiche Che più ti hanno colpito in un uomo? Quello che mi piace di più di un uomo Cioè deve essere molto intelligente O deve farmi molto ridere O forse deve essere anche bello O deve essere molto bello A vedersi Però poi non lo so Non basta Per un periodo hai vissuto a Miami Sentiamo cosa ci racconti di Miami Città splendida peraltro Diversantissima E soprattutto Molto piena di arte Non male Tu ti svegli la mattina Sei già di buon umore Poi hai la spiaggia Cioè se non hai niente da fare E anche non hai tanti soldi Vai alla spiaggia Stai tranquillo Ti metti lì al sole Vivi di poco Un infradito Uno shorts Una t-shirt La cosa che mi manca di più dell'Italia O dell'Europa Il passato Le radici La mentalità Io dico sempre i cervelli Non perché qui non ci siano i cervelli Ci sono sicuramente Però chissà dove si nascondono Non si nascondono Non sono a Miami Beach forse È vero In compenso ci sono tanti bei ragazzi a Miami Belli Tanti bei corpi No? Ragazzi e ragazze Insomma ti piaceva stare Hai fatto qualche incontro con qualche bel ragazzo a Miami? Certo Ma anche in Italia Non è che mancano Ma insomma ci sono più giovani Tendenzialmente un uomo lo vuoi più giovane o coetaneo? Adesso? Beh non è che uno sceglie Però sai guardo nei tuoi radar no? Ho meno paura di un uomo giovane Sì? Di un uomo grande Sì Meno paura di un uomo giovane Sì Ma da cosa deriva questa tua paura di soffrire il amore? Beh forse perché l'ultima volta che ho sofferto È sofferto per un uomo grande Più grande di me Chi era? Beh americano A Miami Che ha fatto di così grave questo sciagurato americano? No è un'altra cosa Vedi quando ho detto lì La diversità La cultura differente Cioè è difficile capire certe mentalità Quando per loro è una cosa normale Per te invece Cosa faceva di normale? Tanto il nome non lo sappiamo quindi No Non so Vabbè era un bugiardo Era bugiardissimo Che è una caratteristica molto frequente Non solo in America Negli uomini Sì Però era Era meraviglioso Era simpatico Era gentile Era sempre perfetto Però era così Sai quelle cose che Ed era tutta una finzione Sì Ma lui era vero Cosa diceva che poi Cosa ha detto che poi non era vero? No tipo allora Sì arrivo venerdì Fai finta Arriva venerdì Così allora giovedì No venerdì non posso perché devo fare questa cosa Allora lunedì Sai quelle cose che uno ti tiene Ma in tutto Questo è un piccolo esempio stupido Però E come Quelle persone sempre imprendibili Ok un po' imprendibili puoi essere Però dopo un po' mi hai rotto le banche Cioè hai rotto Basta Rilassati anche tu Ho detto guarda scusa Veramente Mi piace veramente molto però Se proprio non ci sentiamo più è molto meglio E lui com'è rimasto? No perché stavamo facendo anche un progetto di lavoro insieme Purtroppo E quindi ho detto Personalmente eviterei Il lavoro va avanti Naturalmente non è andato avanti neanche il lavoro Va beh Perché lui Non l'ha separato Non l'ha riuscito a separarlo Sei sicura che vuoi veramente? Sì 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 E infatti così Così è andata Ci sono dei killer in giro Andiamo allo specchio Sì Super killer Super killer C'è anche l'Isis dei fidanzati Andiamo Tu vuoi fare l'americano? Se voleva fare l'americano oppure se era americano Era americano Era americano Era americano E dallo specchio Eccomi Noi facciamo partire subito subito un bel video messaggio Ecco Ciao mamma Mi ricordo quando ero bambina Piangevo Avevo pura di andare a dormire Non volevo crescere così tu non invecchiassi Ti vedevo come la mamma più bella del mondo Adesso ti vedo ancora Così giovane Così bella Piena di così tanta grinta E mi chiedo Non è che ho preso il mio desiderio in realtà Non vedo l'ora di rivederti qui a Miami Ci manca tantissimo Tanti pacini Che dolce questa vittoria Io l'adoro Forse è la femmina che esiste al mondo che amo di più Non lo so Amo anche mia mamma e mia sorella Però non lo so Lei è un personaggio È veramente la persona che mi può fare Arrabbiare o soffrire di più Però anche divertire o sorprendere di più È troppo intelligente È una ragazza molto intelligente Molto spiritosa Ironica Però è completamente È un po' matterella È un po' Non lo so È un personaggio Cosa ti ha fatto Ti fa arrabbiare di Vittoria? Perché ha una dialettica Ha sempre ragione Anch'io sono una che vuole Avere molto spesso ragione Però tu sei la mamma Lei è un avvocato Un avvocato Nato Io quando ero piccola così ho detto Tu devi fare l'avvocato Per carità Non voglio assolutamente Però lei anche a scuola Aveva sempre ragione lei Lei pure lavora nell'ambito delle Acquisizioni dei diritti sportivi No Quello è Mario Lei nella moda Noi abbiamo così Abbiamo Ci siamo buttati in questo mondo A Miami Con una socia Ina E quindi niente Quindi abbiamo Aperto questa società E questo concept store Così Fiorella, Rita, Vittoria Cosa è passato da Fiorella a Vittoria Attraverso Rita? Eh, mamma mia Che diversità Se penso a mia madre E penso a Vittoria Sono proprio due mondi Vittoria è proprio nell'aria Sai È un'area È poco terrena Però ha delle cose Sembra quasi una donna del passato Fisicamente può essere una donna del passato Però è estremamente moderna Estremamente proiettata Non all'oggi Al... E tu che cosa le auguri? Ma io le auguro solo di essere felice Lei mi dice sempre Tu non accetti il fatto che io sia diversa da te Ma è vero E... Perché vorremmo sempre che i nostri figli, no? Facessero quello che vogliamo noi Quello che ci piace a noi Lei dice tu devi accettare il fatto che io Sono felice con altre cose Vorresti diventare nonna? Ma non ho così tanta fretta, cara Non ho così tanta fretta Perché... Cioè loro sono ancora i miei bambini Ma non perché sono piccoli 32 e 26 Sì Però io sono Ma hanno poi una bellezza Cioè ho visto le foto Ma è una cosa da perdere la testa Mario... Vittorio lo chiama Ritino Sei... Lo chiama? Ritino Ritino Ah perché sei... Ritino perché lei dice che è il cocco di mamma Mentre non è vero quella Cocca di mamma è lei E hai mai messo... Lui ti ha presentato sue fidanzate immagino di sì Sì, certo E come ti relazioni con loro? Benissimo Le adoro Per cui sempre... Per cui sempre... Linearità femminile sempre Sempre Ci sei sempre fidata delle donne Mi sembra di capire Sì... Io quello che ho insegnato a Mario è a rispettare... Ma non mi era dovuto neanche insegnare Perché è un ragazzo che veramente sa trattare le donne Con grande rispetto Vabbè... Tratta tutti... È un gentleman Però... Secondo me è bello stare con Mario ecco Solo che ama troppo lo sport, capisci? Lui guarda... Cioè... Anche la partita del Don Orione Ce la deve vedere Quindi non so se una donna non ama il calcio Un super maschio alfa Però sono anche rilassanti Rita Perché comunque loro stanno davanti alla televisione Sanno lì, capito? Tu puoi fare le tre cose Esatto Adoro La domenica passata davanti alla televisione a vedere le partite Tutto sommato per noi Ah... È una liberazione Sì 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 Vediamo quest'altro video Ci spieghi questi due video in cui dai l'addio a una casa e arrivi in un'altra? Addio dopo... Praticamente io in quella casa Sono entrata prima di sposarmi Sono sposata, ho avuto i bambini, sono separata, tutto quanto E adesso l'ho lasciata dopo quindi tanti anni E... E ho cambiato Però sono contentissima Hai lasciato anche perché vuoi fare spazio a una vita nuova in questo momento? O è solo casuale? No, ho dovuto lasciarla E... Però... Però è bello Io sono un'abitudinaria Sono un toro molto terrena eccetera Però mi piacciono i cambiamenti Perché nei cambiamenti puoi trovare qualcosa di più bello E poi puoi trovare dei stimoli nuovi eccetera E... E ho cambiato e sono molto felice Un nuovo amore lo porteresti a casa? Cioè ti senti pronta a riconvivere? Ma che domanda? Ma tutte queste domande mi fai qui? Vabbè, possiamo rispondere Vabbè, però che vogliamo fare? Domandare... Quanto tempo abbiamo da perdere e buttare via? Quindi giusto? No, io non so Io sono accogliente Io sono accogliente Sì sì, anch'io sono accogliente Accogliente e generosa Bravissima Così si fa E nella tua vita non manca anche Un amore a quattro zampe Ah beh, certo La Nina Vai Eccola Prepotente Oh, Nina Dolce amore E non aspettare me Oh, nel cuore un ecco metà Se mi guardi la vedrai Maledetti c'è un bel dancing E come un vecchio film Balleremo un sexy tempo Con le note che ci saltano tra i denti Che dolce la Nina Io l'amo profondamente Ha 13 anni Quindi siamo due zitelline Nel senso che ci conosciamo a memoria Il primo cane che hai? No, no Sempre cani? Sì sì Avevo anche un gatto Eh, quindi tu sei più canara che gattara Avevo un gatto quando ero piccola Ah Però dopo sono... Si sono passata ai cagnolini Quindi se prediligi i cagnolini vuol dire che ti fa piacere avere un affetto più profondo No, il gatto è più indipendente, no? Però guarda che la Nina è diventata indipendente Adesso le dico Ah, sei diventata un gatto Ti fa piacere? Su certe cose sì Per certi versi sì Per certi versi no Però no È un amore È adorabile Termosifoni affettivi La cosa più buffa che hai fatta con Nina? Ah, così all'improvviso? Non mi viene Portarla Immagino che farete passeggiate La porti fuori tu Vabbè, certo In aereo Ma l'hai portata pure a Miami? Sì, chiaro Ho vissuto con me a Miami Chiaro Si divertiva più a Miami Eh, tutti questi traslochi, non sai Lei è distrutta C'è un esaurimento nervoso Veramente i cani non avevano i cambi di case Esatto Tu nemmeno però questa volta si va verso un nuovo orizzonte Sì, una casa piena di luce, di sole, di felicità Rita Noi te l'auguriamo davvero tanta felicità Grazie Ho anche sentito Nina Oggi è il suo compleanno Vieni, scendi qui con noi Così i nostri telespettatori Ti rivedono in tutto il tuo splendore Ecco E veramente grazie di questa lunga intervista Grazie a te Buon vento Noi ci possiamo neanche abbracciare Lo faremo, spero, presto Quando saremo tutti Vaccinati, guariti, eccetera, eccetera È stato un incontro molto piacevole Grazie Grazie Buon vento Grazie 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 Grazie